Rispetto del Green Pass prosegue l'azione di controllo effettuata dalle forze di polizia con il concorso delle polizie locali dei comuni della provincia di Caltanissetta in adesione al piano dei controlli elaborato dalla Prefettura. Dal 21 al 27 febbraio 2022 nelle aree cittadine individuate dal piano prefettizio in cui insistono attività comunali ed esercizi pubblici per i quali è richiesto l'obbligo del Green Pass, dove è stato attivato inoltre il rafforzamento dell'azione di controllo e di vigilanza, sono state controllate 233 attività commerciali o esercizi pubblici, due le sanzioni, controllate anche 2716 persone, sanzionate due per il mancato possesso di regolare Green Pass.